Ciao! Per garantirti il massimo della sicurezza, le nostre procedure anti-Covid partono dall'accoglienza, accompagnata dalla prassi dell'igienizzazione delle mani e dalla misurazione della temperatura. Le nostre postazioni protette da pannelli in pepsiglass e igienizzate, compresi di medici sanitari. Utilizziamo asciugamano, kimono e mantelline mono-uso. Igenizziamo e sterilizziamo spazzole, peccini e strumenti in acciaio con igienizzatori e vapore a 100 gradi. Ma non ingustiamo, limitando così l'uso di plastica. Musica In tutto questo il nostro sorriso lo troverai dietro le mascherine FFP2. Ti aspettiamo!